ciao ragazze e benvenuti ancora sul mio canale oggi ho preparato per voi un piccolo tutorial disney faremo anche la piccola mini questo è il mio supporto preferito per le tip adesso vi faccio vedere anche perché tanti mi chiedono su cosa io attacco le tip ecco qua il supporto ci sono diversi colori io li compro sempre su aliexpress il mio negozio preferito dopo sotto il video vi lascio il link adesso vi faccio vedere come attacchiamo la tip prendiamo il patatix che lo trovate sempre sul negozio su aliexpress prendiamo un po di patatix e andiamo attaccarlo sul nostro supporto tip ecco qua ed è pronto poi prendiamo la tip lo attacchiamo sopra in questo negozio io compro anche questi mini buffer che possono essere usate anche nel lavoro come uso getta perché costano davvero poco e sono molto comode passo il buffer sulla tip ecco qua la nostra tip è pronta per essere applicato il colore in questo video io userò anche i strass che li trovate sempre in questo negozio su aliexpress che vi lascerò il link sotto la descrizione di questo video comunque io compro sempre che molto comodo questo set che ci sono sei diverse misure quindi visto che a me mi serviranno davvero diverse misure allora questo qua sarebbe perfetto poi intanto potete anche guardare anche questi qua sempre che li trovate sul loro negozio che ci sono anche strass più grossi e diverse misure che oggi li potremmo usare anche questi grazie Grazie a tutti. 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 a tutti.